Al negozio. Primo episodio. Al negozio. Primo episodio. Parcheggio. Parcheggio. Le auto sono parcheggiate nel parcheggio. Le auto sono parcheggiate nel parcheggio. Stazione dei taxi. I taxi stanno aspettando i passeggeri. I taxi stanno aspettando i passeggeri. Spazio parcheggio disabili. Spazio parcheggio disabili. Porta d'uscita del negozio. Porta d'uscita del negozio. I clienti escono da questa porta. I clienti escono da questa porta. Entrata del negozio. Entrata del negozio. Ora siamo fuori dal negozio. Ora siamo fuori dal negozio. Vogliamo entrare nel negozio. Vogliamo entrare nel negozio. La porta automatica del negozio si apre. La porta automatica del negozio. Siamo ora nel negozio. Oggetti in vendita. Oggetti in vendita. Oggetti in vendita.